Un gordiale benvenuto all'affondamento con il meteo Mi scrive da Belluno la classe maschile terza B Gentile colonnello dalla cindola Perché a leggere il meteo c'è lei E non una fotomodella bionza californiana E quindi? La risposta? Ma sarebbe la fotomodella? Devo perdere che non sono californiana No, ecco, torniamo indietro E' meglio così La scienza esatta del meteo Ritorna in freddo, lo potete vedere A causa della perturbazione Ma soprattutto a causa della luna che entra in scorpione Ma cosa c'è? La vergine per voi neve a bassa quota Ma anche nuove prospettive sentimentali Sessuali Si dà un moderato scambismo di coppia Salute, meteorismo Meteorismo Ma cos'è ancora? Meteorismo? Questa è un'altra visione del tempo Sul Italia Per il weekend A tutti voi un buon proseguo di serata E che i vostri sogni possino avverarsi Possono? Un ingiuntivo forse impreciso Ma l'importante è che si capisca Ehi, questo è l'importante Cos'è? Che progetti ha per la serata? È nuda Mamma mia, aiuto Ma perché? Non so quale delle due inquadature preferire Ecco, forse è questa Ma se la pioggia Sì Sarebbe demborato Ma non è a zecca uno, eh La conseguenza non è il suo posto Scenzatta Esatta Siamo sicuri che sia scelta Esatta